ben trovati come vedete siamo con don giorgio vediamo se riesce a unirsi anche il nostro don angelo ma è preso con il grest con i suoi ragazzi allora don giorgio da qualche settimana non ci vediamo ci sono però anche delle novità di impegno della chiesa della caritas e non solo tra l'altro siamo alla vigilia della domenica del corpus domini nel mio caso ma anche in altre parrocchie forse ci sono prime comunioni o cresime ed è proprio però la festa del corpus domini il pane spezzato e allora cosa ci dici un po su questo tema anche di quello che sta succedendo sì beh questa festa il corpus domini dopo aver celebrato la santissima trinità ancora ci mette di fronte a una solennità che però dobbiamo un attimino calare incarnare nella storia della nostra gente in questo contesto sempre così complicato e difficile ecco la solennità il corpus domini è davvero l'occasione per ripensare quanto questa questa carne di cristo questo sangue versato è la storia di carne di corpo e di sangue che fa fatica fragile debole di tanta gente tante persone causa covid guerra tante altre situazioni che veramente sono in una situazione di fragilità di povertà noi così con le nostre mille passa puntate con tutti i nostri limiti stiamo cercando ogni settimana anche di aiutare a riscoprire un vangelo nella sua essenzialità e anche di dare un'immagine un volto di chiesa che non è una chiesa piegata su se stessa l'altro giorno il papa ha parlato con dieci direttori delle riviste culturali europee ha parlato della guerra eccetera per ricordarci che il papa ci impegna sempre su questo ma qualche giorno prima aveva incontrato alcuni preti della sicilia e aveva detto di stare attenti e non ritornare ancora ai merletti e alle bonete che sono un po il cappello ecclesiastico tutte robe un po preconciliare noi siamo qui a vivere questo tempo del 2022 il concilio vaticano secondo con la gaudium espes diceva le gioie le speranze le fatiche eccetera delle persone di oggi sono le gioie gaudium espes le gioie le speranze della chiesa stessa e quindi non è una chiesa disincarnata non è una chiesa lontana dall'uomo che pensa a se stesso ma una chiesa accanto agli uomini e alle donne di questo tempo e mi sembra di avere letto che nei prossimi giorni c'è anche un convegno nazionale della caritas si comincerà proprio lunedì in fiera ro il convegno nazionale della caritas dopo tutto questo periodo in cui abbiamo saltato alcuni appuntamenti a livello nazionale ritorniamo un po a ricelebrare il cinquantesimo di caritas italiana che abbiamo celebrato lo scorso anno e il tema è proprio quello che ci ha lasciato il papa le tre vie che sulle quali la caritas deve camminare la via dei poveri la via del vangelo e la via della creatività ecco su queste tre vie quattro giorni tutti insieme le caritas e di tutta italia ragionare a pensare quali prospettive nuove si aprono davanti a noi sì poi dopo magari ci aggiorni anche su su quello che sta succedendo nel nostro territorio a livello di caritas l'ultima volta avevamo un po parlato anche ovviamente della presenza di tante persone dall'ucraina qual è il punto della situazione e non solo di altre persone che magari o arrivano o sono comunque poveri sul nostro territorio sì ormai sono abbiamo superato i tre mesi di accoglienza e alcune famiglie abbiamo registrato che sono ripartite non sappiamo bene se per l'ucraina o per i paesi confinanti comunque ha fatto ritorno secondo me con la speranza che il conflitto ormai sia abbastanza collocato nel sud dell'ucraina e quindi qualcuno giustamente ha voglia di tornare a casa anche perché sono venute donne con bambini e tanti uomini sono rimasti là per combattere ma soprattutto sono rimasti là tanti anziani quindi immaginiamo anche chi è venuto qui e ha lasciato là i genitori anziani quindi c'è una voglia un po di ricongiungimento di ritornare eccetera e poi abbiamo famiglie che sono ancora collocate qui quindi stiamo sostenendo anche i centri estivi dove bambini ucraini stanno si stanno inserendo si stanno integrando un po con i nostri ragazzi quindi famiglie ancora presenti sul territorio sono tante l'accoglienza se lo sappiamo tutti non è semplice soprattutto quando diventa per un tempo così prolungato quindi ancora una volta la richiesta davvero di sostenere famiglie situazioni in cui davvero con tanta generosità si sono aperte le porte ma poi con l'andare del tempo si spengono un po il riflettore quindi si rischia di dimenticare un po queste situazioni sì ecco don angelo non si è ancora fatto vivo continuiamo noi accennavo prima prima di lasciare la parola ancora don giorgio che il papa ha incontrato qualche giorno fa un gruppo di direttore di riviste dei gesuiti come sapete il papa gesuita anche lui e don antonio spadaro poi ne ha parlato alla stampa rivelando un po le cose che il papa ha detto sempre legate al tema della guerra io porto sempre con me questo nastrino verde perché la sensazione e l'ha detto anche il papa credo domenica all'angelo se in altre occasioni è che ci abituiamo alla guerra ormai sono passati mesi noi siamo abituati ad abituarci a tutto e sarebbe davvero una tragedia quella di ormai tanto i giornali non parlano più della guerra come notizia ci sono tante altre notizie c'è la nazionale di calcio tra l'altro facciamo una parentesi è interessante vedevo l'altra notte non riuscivo a dormire i commenti sul tuo compaesano tu abiti a bavino questo giovanissimo gnonto i commenti non parliamo di calcio ci voleva don angelo per commentare sconfitte o perdite o tattiche ma i commenti proprio per dire ma quello non è italiano ma quello è africano avrà il doppio degli anni quel sottile filo di razzismo neanche troppo sottile fatto dai leoni di tastiera perché comunque un ragazzino nero si presta a sdoganare gli istinti più bestiali ecco dicevo chiudiamo questo magari ne riparleremo nell'estate e il papa ci chiede di non rassegnarci alla guerra noi rischiamo invece di abituarci si parla di altro appunto della nazionale dei costi del governo degli accordi si va verso le elezioni c'è stato il referendum le amministrative e la guerra diventa quasi un fatto normale allora papa francesco incontrando questi direttori di giornali dice non vediamo l'intero dramma che si sta svolgendo dietro questa guerra registro l'interesse di testare e vendere armi è molto triste ma in fondo è proprio questo essere in gioco allora qualcuno può dirmi ma lei a favore di putin è il papa che parla no non lo sono sarebbe semplicistico ed errato affermare una cosa del genere sono semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra buoni e cattivi senza ragionare su radici e interessi che sono molti complessi mentre vediamo la ferocia la crudeltà delle truppe russe non dobbiamo dimenticare i problemi che e provare a risolverli è pur vero che i russi pensavano che tutto sarebbe finito in una settimana ma hanno sbagliato i calcoli hanno trovato un popolo coraggioso un popolo che sta lottando per sopravvivere che ha una storia di lotta devo pure aggiungere che quello che sta succedendo ora in ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino noi tocca di più la nostra sensibilità ma ci sono altri paesi lontani pensiamo alcune zone dell'africa al nord della nigeria al nord del congo tra l'altro il papa avrebbe dovuto andare a viaggio poi è stato sospeso dove la guerra in corso e nessuno se ne cura pensiamo ne amare eccetera qualche anno fa mi è venuto in mente di dire che stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi o a bocconi ecco per me oggi la terza guerra mondiale è stata dichiarata e questo è un aspetto che dovrebbe farci riflettere che cosa sta succedendo all'umanità che in un secolo ha avuto tre guerre mondiali io vivo la prima guerra nel ricordo di mio nonno sul piave poi la seconda e ora la terza e questo è un male per l'umanità una calamità bisogna pensare che in un secolo si sono susseguite tre guerre mondiali con tutto il commercio di armi che c'è dietro magari poi ci ritorniamo sul discorso delle armi e dei nostri f35 però per ritornare a te don giorgio abbiamo io non l'ho letto confesso però abbiamo visto che il papa ha pubblicato il testo per la giornata mondiale dei poveri che dovrebbe essere a novembre vero sì come ogni anno novembre c'è questo appuntamento voluto da alcuni anni da papa francesco il tema di quest'anno è gesù cristo si è fatto povero per noi quindi ancora una volta il papa riaccende i riflettori sul tema della povertà ecco se non dobbiamo abituarci alla guerra nemmeno la povertà tra l'altro sono di questi giorni i dati istat come ogni mese di giugno sul tema della povertà che registrano ancora una volta un picco un aumento i poveri parliamo sempre comunque di due milioni di famiglie in situazioni di povertà quasi un poco meno di 6 milioni di persone e il papa ci invita ancora una volta avere uno sguardo che lo sguardo di compassione di attenzione ma soprattutto mi è piaciuto soprattutto una un passaggio del papa quando dice che di fronte alla povertà il compito della chiesa è quello di animare le comunità come ha fatto le prime comunità cristiane proprio anche negli incontri nel nel devolvere poi parte delle sostanze dei contributi per le ore per gli orfani e per le vedove che sono i poveri di oggi e quindi ci interroga ancora oggi e il papa su quanto siamo capaci noi di destinare parte delle nostre risorse non tanto da soldi pubblici da 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 bandi da tante cose che cerchiamo di fare per portare a casa un po di risorse per i poveri ma come dice molte volte papa francesco mettendo le mani in fondo le nostre tasche perché poi è da quello che vediamo quanto siamo coinvolti e quanto sappiamo davvero convertirci sul tema della povertà ricordo velocemente tre cose la prima è una notizia brutta il primo f 35 caccia bombardiere che trasporta anche le armi nucleari è arrivato a ghedi dove ci sono le armi nucleari le bombe atomiche quelle di hiroshima quasi fanno ridere a confronto di quelle che ci sono oggi anche qui vicino noi a ghedi vicino a brescia e gli f 35 sono predisposti per il trasporto delle nuove bombe nucleari b 61 12 vogliamo la pace o vogliamo la guerra tanti soldi tanti tanti don giorgio parlava di povere tanti soldi vanno per uccidere le persone e allora il secondo richiamo il secondo appuntamento che vi ricordo è a vienna l'incontro dal 21 al 23 giugno di tutti gli stati che hanno firmato per la messa al bando delle armi nucleari e l'italia però non parteciperà perché non ha firmato ci saranno tante associazioni noi chiediamo italia ripensaci e l'ultimo appuntamento per salutarci a odessa una delegazione una carovana di pace dal 24 al 27 giugno per dire non vi abbiamo dimenticato vogliamo la pace ci vediamo con don angelo e don giorgio la settimana prossima arrivederci arrivederci arrivederci